Diamo un impulso alla rivitalizzazione del porto affinché torni a giocare un ruolo di primo piano per il settore della nautica. Il vice sindaco Cristian Fanesi annuncia l'approvazione in giunta dell'adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore del porto di Fano. La delibera, che dovrà essere discussa anche in consiglio comunale, crea le condizioni per realizzare un polo produttivo nell'area compresa tra via Pilo-Biancalana e lungomare mediterraneo, lasciata negli anni addietro in uno stato di degrado. Il cantiere navale verrà costruito dall'azienda Wider, leader nella realizzazione di yacht ibridi personalizzati. Abbiamo lavorato per valorizzare l'area del porto, un'area che era rimasta fino ad oggi inutilizzata all'interno del porto di Fano e abbiamo lavorato ad una proposta che sicuramente dovrà essere approvata dalla Regione Marche e dal Ministero ma che sicuramente ha dei vantaggi. Il primo vantaggio è quello di migliorare l'estetica e l'inserimento all'interno appunto di uno scalain molto importante. La seconda cosa è che abbiamo tradotto le richieste dovute ai cambiamenti dei mercati in una cosa reale che può funzionare, che può attrarre anche centinaia di lavoratori perché la canteristica navale di Fano è una canteristica molto importante. Abbiamo una tradizione da questo punto di vista molto ricca di aziende e quindi una tradizione che noi vogliamo migliorare e tutelare. Fano non è un caso, è un'eccellenza a livello nazionale da questo punto di vista e questo progetto sicuramente va nella direzione che noi vogliamo imporre a questa città, quello di fare ancora di più meglio in questo settore, valorizzare le eccellenze e valorizzare soprattutto l'attività dell'uomo ma anche valorizzare il nostro porto che è un bene comune che tutti quanti dobbiamo cercare di rendere ancora più utile alla città l'economia della stessa.